E' pronto il tanto atteso piano asfalti del Comune di Teramo per oltre un milione di euro. Un intervento molto atteso in città che dovrebbe essere presentato la prossima settimana alla cittadinanza. Lavori che l'assessore di riferimento Valdo di Bonaventura si augura che prenderanno il via per i primi di luglio. Anche se purtroppo l'importo messo a disposizione non basterà a risolvere il problema su tutto il territorio comunale, ma permetterà almeno di ripristinare le situazioni più drammatiche presenti in città. E' il problema dei problemi. Le strade sono tutte disastrate sia a livello cittadino ma anche nelle periferie e nelle frazioni. Quindi dobbiamo, per quello che si può dare, dare una risposta alle situazioni più urgenti. Sicuramente il centro storico americano ha un'attenzione particolare perché tra l'altro è il luogo dove avvengono più incidenti dei pedoni e quindi risarcimento dei danni. Dobbiamo dare un segnale importante. Abbiamo difficoltà a reperire tutte le risorse necessarie, perlomeno per dare una prima risposta. Perché qui se si volesse mettere a punto tutti gli asfalti ci vorrebbero un milione di euro. Ma almeno dare risposte importanti alle situazioni più urgenti. Quanta è la somma che adesso lei ha a disposizione? Beh, dovremmo avere un milione di euro ma dobbiamo arrivare almeno a un milione e tre. Quindi però troveremo, io sono convinto che troveremo soluzione per arrivare a quella cifra. Ripeto, insufficiente per dare risposta a tutte le situazioni. Però stiamo predisponendo un piano asfalti dettagliato, cercando di dare risposta al centro cittadino, ma risposta anche, un piccolo segnale anche alle frazioni. Grazie.